Ciao e benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. In questo video ti insegnerò una tecnica che può essere applicata sia in Photoshop che in Luminar, che è la tecnica dell'effetto Horton, che darà una spinta in più a tutte le tue fotografie, donandogli un look un po' fiabbesco, un po' fatato. Ti faccio vedere su Google alcune immagini a cui è stato applicato l'effetto Horton. Vedi, sono immagini che hanno questo effetto un po' fatato, un po' da Hansel e Gretel. Applicare questo effetto in Photoshop è facilissimo, applicarlo in Luminar è ancora più facile, ma prima di addentrarci in questo tutorial ti chiedo di mettere like a questo video e poi ricordati di visitare anche il sito internet www.diventaunfotografo.com che al mio sito internet di formazione fotografica troverai un sacco di materiale sia gratuito che a pagamento, quindi dacci un'occhiata, sono sicuro che ti piacerà. Torniamo a noi. Ho selezionato qui tre fotografie che io ho scattato qualche tempo fa. Sono due paesaggi, ingrandiamole un po', sono due paesaggi e un ritratto. Ecco, l'effetto Horton può essere utilizzato, può essere applicato su qualsiasi fotografia, di qualsiasi genere. Iniziamo per esempio su questa fotografia qui, che è una fotografia di paesaggio d'Hamburgo. Faccio Apri con Photoshop 2020 ed eccoci qui all'interno di Photoshop. E ora andiamo a donare a questa foto, che già funziona molto così, ma andiamo a renderla più fiabesca, più fatata. La prima cosa che devi fare, vedi, qui a destra abbiamo i nostri livelli, abbiamo il livello di sfondo, ci facciamo un tasto destro e clicchiamo su Duplica livello. E ora, vedi, ci compare questa finestrella e mi chiede come rinominare il livello copiato. E io lo chiamo Effetto Horton e poi diamo OK. Ora, una volta applicato questo, dobbiamo andare in Filtro, Sfocatura, Controllo Sfocatura. Ora, portiamo il raggio a zero e poi lentamente lo spostiamo verso destra finché non troviamo una sfocatura che più o meno ci piace. Non spingerti troppo in avanti perché otterresti una fotografia veramente irriconoscibile, una fotografia, ecco, con solo macchie di colore. Però, vedi, in questo caso, per esempio, già un raggio di 2 e 5, già mi piace. Ovviamente, più megapixel è l'immagine, più dovrai spingerti avanti. Questa è una fotografia in JPEG ridimensionata. Se questa fotografia fosse uscita dalla mia macchina fotografica, questa è stata scattata con una macchina fotografica a 36 megapixel, beh, avrei spinto il raggio molto più a destra. In questo caso, essendo una foto più piccola, mi fermo qui. Però, devi andare un po' ad occhio, un po' a gusto. Poi, piano piano, magari applicando questo filtro, creerai un tuo gusto personale. Ok, una volta scelto il raggio di Sfocatura, andiamo anche un po' più avanti. Dai, facciamo 3 e clicchiamo su OK. Cosa otteniamo? Abbiamo una fotografia completamente sfocata. Ora dobbiamo accentuarne un po' le luci. Come fare? Ci sono molti modi, ti dico quello che io preferisco. Andiamo qui, vedi, qui in basso. Abbiamo questa iconcina che è un cerchietto spaccato in due per creare un nuovo livello di regolazione. Noi ci clicchiamo e apriamo un livello di regolazione curve. Questo livello, ora, dobbiamo applicarlo al livello effetto Horton. Cioè, dobbiamo dire a Photoshop che tutte le modifiche che andremo a fare nel livello curve saranno visibili solo sul livello effetto Horton e non su tutti gli altri livelli. Per farlo è molto semplice. Basta cliccare il tasto Alt della tastiera, posizionarci qui sulla maschera di livello, sul livello curve, e come vedi il puntatore diventa un quadratino con una freccetta verso il basso. Bene, facciamo un click del mouse e come vedi ora vicino a questo livello curve compare una freccetta che punta il livello effetto Horton. Questo sostanzialmente vuol dire che questa curva sarà applicata solo su questo livello. Come dobbiamo utilizzare questa curva? Ora, se non conosci l'utilizzo delle curve, fallo un po' meccanicamente. Magari, se ti interessa, farò un video specifico su cosa sono le curve e come utilizzarle. Nel caso in cui ti interessasse, scrivimelo nei commenti. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accentuare le luci di questa immagine. Quindi, più o meno le luci sappiamo che si trovano qui. Andiamo ad alzare le luci in modo abbastanza generoso. Come sai, però, alzando le luci, vedi che la curva fa appunto questo arco e mi si vanno ad alzare anche le ombre. Io le ombre me le riporto lì dove stavano. Non voglio scurirle, ma le riporto lì dove stavano. Alziamo ancora un altro po' le luci. Vediamo, così. Una volta accentuate le luci di questa fotografia, cosa faccio? Mi riposiziono sul livello effetto Horton e qui posso scegliere, con questo menu a tendina, la modalità di fusione del livello in Photoshop. E io vado a scegliere la modalità di fusione scolora. Cliccandoci, ecco qui quello che otteniamo. Come vedi, l'immagine è troppo, troppo luminosa. Come vado ora a bilanciare questo effetto? Vedi, qui possiamo scegliere l'opacità e il riempimento della fotografia. Ecco, abbassa il riempimento a zero e, come vedi, otteniamo la fotografia originale. E ora piano piano lo rialziamo e ci fermeremo lì dove riterremo interessante l'effetto. In questo caso io mi fermerei qui, a un 54%. Ok, ora un'altra piccola cosa. A volte ti capiterà che non vorrai applicare l'effetto Horton su tutta la tua immagine. Per esempio, in questo caso io, ecco, mi piace molto che sia applicata qui verso il centro. In questo caso in realtà a me piace applicata su tutta l'immagine. Però supponiamo di voler escludere questa struttura, questa struttura centrale della fotografia, da questo effetto Horton. Come fare? Ora, per farlo ci posizioniamo sul livello effetto Horton. Qui in basso clicchiamo su questo rettangolino con un cerchietto in mezzo per creare una maschera di livello. E vado a selezionarmi un pennello nero. Come funzionano le maschere? Dove noi andiamo a pennellare di nero, annulliamo l'effetto Horton. Quindi ora io mi riduco un po' la dimensione del pennello e vado a spennellare lì dove non voglio che sia applicato l'effetto Horton. Per esempio, potrei levare questo castelletto centrale. In realtà non l'avrei mai fatto perché, guarda, torniamo indietro. Come vedi è molto bello l'effetto Horton applicato a questa struttura centrale. Però sappi che, soprattutto se vuoi applicare l'effetto Horton a una fotografia dove compaiono persone o animali, ecco, l'effetto Horton va a rovinare un pochino la pelle, i contorni della pelle. Non è assolutamente gradevole. È buona norma andare a rimuovere l'effetto Horton dalle persone. Se non vuoi rimuoverlo completamente, guarda come fai. Selezioni il pennello qui, l'opacità del pennello la metti, per esempio, al 12% e spennelli piano piano finché non ottieni un effetto piacevole. Un altro modo molto più veloce per applicare l'effetto Horton è in Luminar. Andiamoci a chiudere Photoshop. Se non conosci Luminar, è un software che è molto molto simile a Lightroom e è veramente interessante perché sfrutta alcune funzioni di intelligenza artificiale. Questa volta andiamoci a prendere una fotografia che rappresenta una persona, quindi questa qui. Questo è un ritratto che ho scattato qualche mese fa. E ora clicchiamo su Modifica qui in alto a destra per entrare nella modalità di modifica di Luminar. Ora qui abbiamo tutte le impostazioni che possiamo fare, ma questa fotografia già è stata post-prodotta. Ora dove troviamo l'effetto Horton in Luminar? Dobbiamo andare nel menu ritratto, qui, e come vedi l'ultima impostazione è proprio l'effetto Horton. Ora ci apriamo l'effetto Horton e come vedi in Luminar è facilissimo. Basterà alzare il valore dell'effetto Horton per applicare l'effetto Horton all'immagine. Guarda, ora lo mandiamo a 100. Vedi come è sfogato. L'accento ovviamente è orribile l'effetto, però per esempio fermandoci su 40 è molto interessante. Luminar però ci dà una spinta in più. Perché? Perché guarda, torniamo a zero. Come vedi i neri di questa foto non sono neri bruciati, non sono neri scuri scuri carichi. Se noi andiamo con l'effetto Horton al massimo, come vedi, sì, vengono potenziate le alte luci, ma vengono scurite anche molto le ombre. E questo a volte può non far piacere. Per esempio in questa foto a me piace l'effetto Horton che ottengo circa con un valore di 40, però non mi piace che i neri siano così carichi. E infatti Luminar ci dà la possibilità di scegliere due tipologie di effetto Horton. La tipologia 1 che va molto a caricare i neri e la tipologia 2 che invece non lo fa. E io apprezzo molto più la tipologia 2 perché vedi riesco a spingermi per esempio a un valore più alto, 60, e ottengo una fotografia molto interessante. Ora, come vedi, qui il volto della ragazza è rovinato dall'effetto Horton, quindi come fare? Devo andare a mascherarlo, devo andare a fare in modo che, per esempio, soprattutto sugli occhi, l'effetto Horton non sia applicato. Quindi clicco su Modifica maschera, Pennello, poi come vedi qui in alto ho due modalità di utilizzo del pennello, il Dipingi e il Cancella. Se uso il Dipingi, sto dicendo a Luminar di applicare l'effetto Horton solo dove dipingo. Se selezioni invece il Cancella di rimuovere l'effetto Horton solo dove dipingo. Quindi io voglio levarlo solo qui, dagli occhi e dalla bocca. E la fotografia è questa. Quando hai fatto, clicchi su Fatto. Come vedi, ti faccio vedere il prima e il dopo, per farlo clicchiamo qua. Prima la fotografia era così, dopo così. Come vedi abbiamo creato con veramente due clic un'atmosfera molto molto più fatata e veramente veramente interessante. Luminar è un software veramente interessante, veramente bello, che io sto apprezzando sempre di più, lo utilizzo molto spesso. Nel caso in cui ti interessasse, in descrizione di questo video ti lascio il link per acquistarlo. Non è come Lightroom che si paga mensilmente, ma si acquista una volta sola e rimane tuo a vita. Tutte le informazioni te le lascio in descrizione, è un software veramente veramente interessante. Se ti interessa l'argomento, ho fatto altri video su questo canale che parlano di Luminar. Bene, per questo video è tutto. Se questa volta non mi hai visto in faccia come negli altri video, è perché ho un'enorme allergia al polline e non mi andava di mettere macchine fotografiche e tutto. Però spero che questo video tu lo abbia apprezzato anche con questa mia voce nasale. Ci vediamo la prossima settimana. A presto! A presto! Grazie a tutti.